Finstral, porte, finestre e persiane, colori di Tollens Bravo a Belluno e Edil Commercio a Vignole e Castion Belluno vi presentano questo programma. In collaborazione con Agenzia d'Affari L'Alpe Bellunese a Belluno. Andrea, come ti dicevo devo parlarti di una casa in un posto bellissimo, siamo in una zona del Castionese, contesto di campagna, veramente molto bello. Ci piacerebbe intervenire proponendo una sostanziale riqualificazione energetica del fabbricato perché abbiamo pensato a un cappotto esterno e a questo punto siamo arrivati a pensare a come intervenire sui serramenti. Ci siamo detti, beh, sarebbe bellissimo avere un serramento che abbinasse una grande prestazione termica ma che all'interno comunque ci consentisse di rimanere con del legno a vista. Allora ho detto, aspetto a Andrea, cosa mi può proporre? Guarda Enrico, secondo me, da quello che mi dici, la soluzione ideale è quello che noi chiamiamo il serramento Lignatec. Non è altro che un serramento che ha tutta la tecnologia del PVC per quanto riguarda l'isolamento termico-acustico e quindi la garanzia di ottenere degli ottimi risultati di isolamento e in più nel lato interno è legno vero. Come vedi è una finestra apparentemente in legno a tutti gli effetti, quindi estremamente piacevole anche al tatto. Come puoi notare il bello di questo serramento è anche molto pulito, non ci sono fermavetri, tagli e un pezzo unico. E all'interno racchiude con il PVC tutto quello che può essere la capacità strutturale come resistenza e anche come isolamento. In più ovviamente non necessita di manutenzione, per cui se ti trovi anche in una zona esposta rurale puoi garantire anche al cliente che risolve anche tutti quelli che sono i problemi del classico seramento in legno che normalmente verso l'esterno è sottoposto a usura e quindi riverniciatura e tutte queste cose. Perché questa parte che vedi esterna invece è... Questo particolare seramento in più ha anche l'alluminio. La base di partenza cos'è? È un seramento in PVC, quindi multicamera, quindi con tutta la sua capacità isolante, in cui nel lato interno viene applicato legno che è massello. Qua proprio si capisce che non è una pellicola appiccicata, ma è proprio legno. Nella fattispecie può essere frassino verniciato in varie essenze, oppure per clienti particolarmente esigenti, che è molto bello, è rovere nazionale spazzolato, quindi anche al tatto molto piacevole. Se si vuole un qualcosina in più, oltre al seramento in PVC come nodo centrale, possiamo proporre all'esterno anche un rivestimento in alluminio. Con questo tipo di tecnologia puoi fare sia finestre, porte e finestre e anche scorrevoli. Con l'alluminio si può fare qualsiasi tipo di verniciatura, di tonalità. Bene, allora, diciamo, è una soluzione efficace, sicuramente la inseriremo nella nostra proposta di riqualificazione dell'immobile. Ti ringrazio. Mi fa molto piacere, ciao. In collaborazione con Agenzia d'Affari l'Alpe Bellunese a Belluno.